Karate Judo Club di Sciacca protagonista a Montelepre con il settore Judo. Gli atleti guidati dall'allenatore Alberto Catanzaro si sono ben disimpegnati ottenendo buoni risultati alla tappa regionale riservata alle categorie cadetti ed esordienti A. Tra i cadetti buono ma un po' stretto il quinto posto di Giovanni Nicosia che si è fermato in semifinale in una categoria molto numerosa. E' andata meglio invece a Fabio Labella che ha ottenuto una bellissima medaglia d'argento cosa che quindi gli ha permesso di qualificarsi alla fase nazionale. Trasferta più complicata per il settore giovanile che ha visto tutti gli esordienti A fuori dal podio alla loro prima esperienza agonistica nel mondo dei grandi con prestazioni sicuramente migliorabili influenzate molto anche dall'emozione. Proveremo a rifarci alla seconda tappa regionale afferma l'istruttore seccense Alberto Catanzaro ma adesso la testa è rivolta alla finale nazionale di Fabio Labella che si terrà a Matera il prossimo 24 e 25 febbraio. Spazio ancora alle arti marziali. Campionato regionale siciliano Feder Combat di Caltanissetta. La decima legione Ares di Sciacca è stata impegnata questo weekend con le sue atlete per il campionato regionale sport da ring e per il campionato regionale discipline da tatami. Nella giornata di sabato Elena Indelicato ha fatto il proprio esordio sul ring nella Muay Thai disciplina che parte da antichissime tradizioni e in cui a Sciacca nessuna donna mai si era cimentata. Per Indelicato un argento che sa di oro poiché l'incontro è stato davvero molto combattuto ma alla fine ha visto favorire l'atleta di casa. A parte il verdetto finale un incontro che ha testimoniato la crescita tecnica ed agonistica della giovane Indelicato la quale ha toccato tutti gli aspetti tecnici della disciplina dal clinch alle gomitate e ginocchiate a bersaglio alle proiezioni. Per il campionato siciliano sport da tatami il sodalizio guidato da Annalisa Labella ha centrato quattro ore di MMA con Elena Indelicato, Chiara Bono, Alice La Rosa e Teresa Parlato della Grace Barra Grigento che si allena con decima legione Ares nella lotta olimpica e nella lotta a parete. Tutte e quattro hanno vinto la loro categoria e dunque adesso passeranno ai campionati italiani del 23 marzo a Roma. Nella kickboxing infine per la kick light medaglia di bronzo con Chiara Bono che alla prima esperienza di gara ha pagato un po' l'emozione ma ha fatto un ottimo incontro. Oro di categoria con Alice La Rosa. Testa adesso alla preparazione per i campionati italiani con l'obiettivo di portare a sciacca degli ottimi risultati.